La causa di sovrappeso e obesità, ad oggi dicono, è la dieta incorretta. A parere mio, dopo anni, dopo 15 anni sopra questo, avendo avuto personalmente problemi di sovrappeso, difficoltà di magrire, ti posso dire che la causa è un metabolismo lento. Ed è tutta una serie di fattori che mi portano a quello che viene definito un metabolismo lento. A maggior ragione una persona che è sovrappeso e obesa inizialmente non dovrebbe fare attività fisica. Perché? Perché non ha l'energia per fare attività fisica. Infatti, il problema di metabolismo è un problema di produzione di energia. Fintanto che io non miglioro la produzione di energia, questa è una cellula, questo è un mitocondrio, la quantità di ossigeno che entra nella cellula determina la produzione di energia. E se io ho una tiroide che non sta funzionando bene, la tiroide decide quanto ossigeno entra nella cellula, beh, non lo risolvo con la dieta. Lo risolvo migliorando il metabolismo, migliorando i problemi di tiroide, migliorando la dipendenza da zuccheri, abbassando il consumo di glucosio e di insulina, i livelli di insulina, assumendo magnesio.